Bene, salve a tutti, fino a poco tempo fa, fino a qualche secondo fa non c'era nessuno, adesso forse c'è qualcuno, o benvenuti, buona domenica, scusatemi se vi disturbo la domenica, comunque questa diretta sarà a vostra disposizione da questa sera stessa, quindi chi non potesse seguire o chi dovesse andarsene può tranquillamente guardarle in un secondo momento. Ho deciso di registrare questa diretta perché era necessario qualche chiarimento, approfondimento riguardo all'audio nella didattica in senso stretto, che non avevamo potuto affrontare nel precedente webinar, e quindi fare anche qualche esempio che vi possa magari ispirare o guidare nella realizzazione dell'attività che dobbiamo portare avanti. Bene, andiamo subito a vedere questa slide che abbiamo visto già nel precedente webinar. Noi siamo soli di far cominciare la storia con la rivoluzione della scrittura, e il passaggio quindi dalla preistoria alla storia stessa, i sumeri, eccetera. Ma in effetti, se andiamo a pensarci, già prima della rivoluzione della scrittura c'è stata un'altra rivoluzione che potremmo definire la rivoluzione dell'oralità. E con la rivoluzione dell'oralità, e ci sono voluti milioni di anni per mettere a punto il linguaggio verbale, non comincia la storia ma cominciano le storie. Cioè comincia quella dimensione narrativa, quel mondo di narrazioni, che ha costituito il tessuto comune dei gruppi umani, e ha permesso all'uomo di progredire, condividendo valori, regole, norme, procedure, conoscenze, e permettendogli di collaborare al di là del semplice contatto diretto. Infatti, l'universo della narrazione rende possibile la collaborazione anche tra estranei, che però, grazie alle storie, condividono gli stessi valori, le stesse norme, eccetera. E tutto questo dipende dal fatto che non siamo abituati a pensare alla voce come a una tecnologia. Eppure, specie ai colleghi delle scuole elementari, ma tutti noi da piccoli, sappiamo bene quale sia lo sforzo che è richiesto per apprendere l'utilizzo del linguaggio verbale. Lo si vede nei bambini, è una cosa estremamente complessa apprendere l'uso della voce e quindi del linguaggio orale. E quindi la voce è una tecnologia, dobbiamo abituarci a pensarla come una tecnologia, ed è una delle più antiche, più potenti tecnologie che l'umanità abbia mai messo a punto. Se dovessimo recensire questa tecnologia, la voce, come facciamo con le tecnologie legate al mondo digitale e all'informatica, potremmo dire per esempio tante cose. E' una tecnologia immersiva, a Lucca il 12 mi pare inizia a Immersed, e quindi i mondi virtuali, la realtà aumentata come strumenti ED, cioè educativi, educational. Ebbene, noi siamo immersi nei suoni, nel linguaggio orale, nell'oralità, nella voce e nelle narrazioni che quotidianamente noi intessiamo interagendo con gli altri. La voce e il mondo dell'oralità in generale sono realtà immersive e sono anche realtà virtuali, perché con la voce possiamo costruire mondi, universi narrativi, possiamo costruire, se pensiamo a tutte, per esempio, le convenzioni su cui si regge anche istituzionalmente, la nostra vita sociale, dalle leggi alle società per azione, dalla scuola, ecco, sono tutte frutto di creazioni linguistico-narrative e di convenzioni linguistiche. Quindi è una realtà immersiva la voce, certamente, è una tecnologia, in un certo senso, che permette l'interattività e che è anche proattiva, ci permette di agire, possiamo pregare, possiamo parlare, possiamo discutere, possiamo dialogare, possiamo descrivere, con la voce possiamo fare tante cose. Quindi, continuando con questo scherzo, potremmo dire che, appunto, la voce è una tecnologia pervasiva. Ecco, lasciamo adesso questo piano del discorso, che ci servirà per capire come la voce non sia affatto qualcosa di, così, rozzo o primitivo. Io dico la voce per dire, appunto, la dimensione della oralità. D'altra parte, la voce è anche una tecnologia che noi utilizziamo con molta naturalezza, con tanta naturalezza, che non la percepiamo nemmeno come una tecnologia che richiede un faticoso apprendimento. E quindi è molto semplice. La voce è versatile. Con la voce possiamo fare tantissime cose. Possiamo fare veramente molto con la voce. E quindi è semplice ed è versatile. E questo già ci fa capire che la voce è l'uso della voce nell'apprendimento. La voce viene ovviamente utilizzata nell'apprendimento, anzi, forse anche troppo. Però quello che voglio dire è che la voce costituisce, con l'audio digitale, con la digitalizzazione del suono, un possibile punto d'ingresso per risolvere quel problema, perché è un problema dell'utilizzo delle tecnologie nella didattica. Ma andiamo a vedere cosa accade con il web. Bene, abbiamo tre variabili. L'audio, la digitalizzazione e il web 2.0. Con l'audio abbiamo avuto a che fare dai tempi di Marconi, ma è appunto le tecnologie di manipolazione dell'audio che mutano. Con il digitale che cosa avviene? Quindi col passaggio dall'analogico al digitale. Che l'audio diventa una tecnologia semplice da manipolare per tutti. Con il web 2.0, quindi con la messa a punto di strumenti presenti sul web, che permettono a tutti di diventare autori, si completa il quadro. Quindi la digitalizzazione del suono rende possibile, e lo sviluppo della rete ovviamente, rende possibile, che cosa? Rendere la portata di tutti, la registrazione, il montaggio e la pubblicazione. Sono operazioni che ora sono la portata di tutti, e sono estremamente semplici. Basta avere uno smartphone, una piccola app per registrare, e in un attimo noi possiamo registrare un messaggio vocale, e pubblicarlo o condividerlo sui social media. Lo sa fare anche un bambino, non richiede competenze specifiche o specialistiche. Tutto questo è stato possibile, dicevo, con la diffusione di internet, il cosiddetto web 2.0, e dei dispositivi mobili. Cosa cambia con tutto questo? Cambia l'autorialità. Il modello broadcast prevalente precedentemente a questi sviluppi della tecnologia e della rete, era un modello per cui c'era l'unico centro emittente che codificava i segnali, e che anche ideava e progettava le trasmissioni, e tutti gli altri utenti che ricevevano come destinatari questo messaggio erano utenti passivi, che potevano limitarsi soltanto a recepire il messaggio, lo stesso messaggio uguale per tutti. Era una comunicazione unidirezionale e gerarchica. Esisteva qualche strumento di interazione come il telefonare, e quindi l'uso del telefono per entrare in comunicazione con la programma radio che si seguiva, per esempio. Adesso, naturalmente, la cosa è molto più ampia, tanto che ha messo in crisi i canali tradizionali di distribuzione, per esempio, delle major della musica. Tutti siamo autori. I cosiddetti user-generated content, cioè i contenuti generati dall'utente, sono oggi la maggior parte. Non abbiamo più il modello broadcast che è crollato. Poi abbiamo la condivisione. Quindi siamo tutti autori. La condivisione vuol dire che tramite il web possiamo portare avanti il racconto digitale della nostra esistenza, possiamo pubblicare e condividere in modo immediato e con un pubblico che, al limite, sono tutti gli utenti del web. E quindi questo dà la possibilità a tutti di esprimersi. La partecipazione, perché si tratta anche di strumenti che ci permettono di interagire gli uni con gli altri, a volte malamente, purtroppo, a volte anche con risvolti estremamente negativi, si pensi al cyberbullismo, però a volte anche con grandi vantaggi. Si pensi allo svilupparsi di gruppi online, comunità di pratica online, gruppi e comunità di interesse, in cui gli utenti accomunati mettono insieme le loro esperienze, le loro competenze, in base a comuni passioni, per portare avanti ricerche, percorsi, che altrimenti sarebbe impossibile portare avanti. E il tutto con tecnologie che, per quanto riguarda il suono, sono abbastanza semplici, abbastanza amichevoli. Bene, dicevo, che cosa c'è di interessante nell'audio? Perché ho proposto l'audio digitale come prima tappa di questo percorso che ha a che fare con lo storytelling, quindi con la narrazione? Perché in effetti l'audio digitale è molto semplice. È una tecnologia estremamente semplice da utilizzare ed è anche estremamente versatile. Come vedremo fra un po', possiamo fare tantissime cose con l'audio, con la voce, insomma, praticamente con l'audio digitale possiamo fare le stesse cose che possiamo fare con la voce, cioè quasi tutto. E questo quindi ci permette anche di approcciare, scusate la brutta parola, in modo corretto anche, o comunque più semplice, il problema dell'integrazione delle tecnologie. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che per molti anni siamo a una visione quasi religiosa della tecnologia digitale. Ecco, l'adozione delle tecnologie digitali avrebbe magicamente risolto tutti, secondo gli entusiasti digitali, tutti i problemi della didattica. Si pensi a tutta la questione delle LIM, sembrava che con l'ingresso delle LIM nelle aule tanti problemi si sarebbero risolti, secondo i più ottimisti la maggior parte dei problemi sarebbero risolti. In realtà non basta introdurre le tecnologie digitali per produrre un mutamento didattico e un miglioramento sul piano didattico, perché il problema non è tecnologico, o per meglio dire il problema tecnologico è secondario ed è subordinato al problema didattico, cioè come utilizzare in modo didatticamente efficace queste tecnologie. Ecco perché molti hanno proposto, e fate le debiti e le proporzioni e nei miei limiti anch'io, di usare il termine TAC, tecnologia dell'apprendimento e della conoscenza, cioè pensare alle tecnologie digitali come strumenti per insegnare e apprendere e quindi rapportarci ad esse non da un punto di vista tecnico-informatico, non dobbiamo diventare appunto degli specialisti dell'informatica, ma come docenti, e quindi chiederci che cosa, non come apprendere le tecnologie, ma come apprendere con le tecnologie. E che cosa vuol dire questo? E questo vuol dire che io di fronte, per esempio, ho un'applicazione web, devo pensare se mi può servire, a cosa mi può servire, può essere utile per le esigenze dei miei alunni, che problemi comporta la sua adozione, sono più i problemi magari che comporta, che non quelli che mi aiuta a risolvere, quali rispetto agli obiettivi che mi sono proposto, quali progressi mi potrebbe portare l'uso, per esempio, di uno strumento per la manipolazione dell'audio digitale. Ecco, sono tutte, e questa è l'ottica da cui dobbiamo guardare le tecnologie, è adottare, utilizzare uno strumento digitale, per esempio una webware, un'applicazione web, solo dopo esserci posti queste domande, e non trascinati dall'entusiasmo, che ovviamente chi tratta e chi si occupa di queste cose, e chi insomma fruga e gironzola per il web, spesso è trascinato dall'entusiasmo per certe cose, si pensi, appunto prima facciamo riferimento a queste tecnologie immersive che sono meravigliose, ebbene, non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo e cercare di inseguire le tecnologie, non è una gara di velocità, e non ne trarremo molto profitto, perché sono molto più veloci di noi le tecnologie, dobbiamo invece cercare di utilizzarle ai nostri fini. Bene, fatto questo discorso molto generale, proviamo adesso ad entrare un po' più nel merito del discorso, guardo un attimo se ci sono domande, ah sì, non ho salutato, saluto tutti, e vi ringrazio anzi per essere presenti, pensavo di non parlare quasi a nessuno, e quindi salve a tutti. Bene, ecco qui ho raccolto, dopo aver visto tanti esempi dei lavori fatti dai colleghi presenti in rete, o dopo aver provato io con i miei studenti alcune di queste attività, ho raccolto alcune possibili azioni, attività che si possono fare con l'audio digitale, per esempio lo storytelling, che è l'argomento che più ci riguarda da vicino, pensate solo al raccontare, a tutto ciò che possiamo far raccontare agli studenti, possiamo naturalmente far loro scrivere un racconto, e poi farglielo recitare, ma possono raccontare le loro esperienze, possono raccontare il loro gioco preferito, possono raccontare le loro amicizie, possono raccontare le loro paure, anche i bambini dell'elementari, saranno ovviamente racconti di qualche secondo, che cosa ti ha fatto più paura, quindi già lì si apre uno spazio, uno spazio immenso, rimanendo proprio nell'ambito della dimensione strettamente narrativa, e quindi della storia, che ha un inizio, uno sviluppo, una fine, eccetera, eccetera, cioè che ha una struttura narrativa, ma pensate a altre cose che potremmo fare, potremmo fare delle interviste, potremmo far sì che i bambini, o i ragazzi della nostra classe, si intervistino tra di loro, o magari intervistino i loro amici, su una cosa che si è discussa in classe, conoscete questo termine, ecco, lo si chiede ai genitori, lo si chiede agli amici, un termine strano che si è imparato, oppure riguarda una questione che si è discussa in classe, un'intervista, oppure ancora, non so, chiedere ai propri nonni, come giocavano quando erano bambini, o com'era la scuola quando ci andavano loro, ecco, già questo sarebbe carino, naturalmente si tratta sempre di fare le cose, misurandole sul proprio passo, di non fare il passo, come si suol dire, più lungo della gamba, che è già una piccola storia in sé, come del resto tutti i proverbi, anche questa affermazione, e cioè, basta un piccolo programma, un piccolo episodio, perché di questo si tratta, pubblicare online, un piccolo file mp3, che può durare anche un minuto, un minuto e mezzo, due minuti, magari si sono divisi i ragazzi e i bambini in gruppi, gli si è chiesto di preparare in classe, uno schema, di intervista, con alcune domande da fare ai propri nonni, sulla loro infanzia, o su come mangiavano, o su come si divertivano, e si registra con uno smartphone, e poi in classe, o da soli con l'aiuto dei genitori, o da soli, se sono ragazzi più grandi, questi file mp3, possono essere o direttamente pubblicati dallo smartphone, su OneDrive, su Google Drive, o su Pinterest, o su uno di quei, di quelle applicazioni che vedremo fra un po', che ci offrono un ambiente per pubblicare questi piccoli file, e diventa l'episodio di una trasmissione, di un programma, che può essere la scuola dei nonni, un programma in tanti episodi, a quanti sono i gruppi, o i ragazzi, a cui abbiamo dato l'incarico. Ecco, questo, oppure pensate alle interviste impossibili, le interviste impossibili sono molto divertenti, sul modello delle famose interviste impossibili, della radio degli anni, ebbe, a fine anni Sessanta, mi pare, dove si intervistavano personaggi storici o della letteratura, quindi possiamo far intervistare loro un personaggio di un'opera letteraria, o un personaggio storico, o un personaggio del passato, o un personaggio immaginario, possono intervistare i loro supereroi, o comunque i loro personaggi preferiti nell'ambito dell'animazione, o possiamo immaginare un'intervista impossibile, che ne so, tra quelli che sono magari oggetti, eventi, che appartengono allo studio disciplinare, che so, intervistare un terremoto, oppure la luna che intervista il sole, oppure, eccetera, eccetera. Quindi anche qui, una cronaca immaginaria, e quindi non un racconto, oppure, per meglio dire, un racconto, ma reso come fosse una radiocronaca. Per esempio, ricordo una mia luna molto brava ha fatto una radiocronaca dello sbarco dei mille in Sicilia, oppure con le pubblicità dei prodotti del tempo, eccetera. Possiamo, e lo vedremo magari in un prossimo webinar, giocare con le variazioni della struttura narrativa, e per esempio raccontare una storia cambiando il finale, oppure cambiando il prologo, oppure cambiando il punto di vista della narratore, oppure con la tecnica dello spin-off prendiamo un personaggio secondario e sviluppiamo una storia che sia interamente incentrata su di lui, possiamo far finire i promessi sposi in modo inusitato, Don Rodrigo sposa Lucia, Renzo Mori di pezzi, insomma ci possiamo divertire, possono venire cose anche molto divertenti, oltre che interessanti, ma che richiedono chiaramente che ci si documenti su questa cosa. Bene, quindi lo spazio dello storytelling è immenso, e i ragazzi si abitano anche a recitare, badate una delle cose fondamentali dal punto di vista degli obiettivi che ci possiamo porre nell'utilizzo dell'audio digitale ai fini dello storytelling e ovviamente dell'insegnamento e dell'apprendimento, è proprio imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri e imparare a padroneggiare la nostra voce. Cosa di cui non siamo capaci, ho noto che non solo io, quando ho fatto i primi video tutorial, le mie prime video lezioni, ero estremamente imbarazzato ad ascoltarmi, mi vergognavo molto, è noto che i ragazzi si vergognano tantissimo, non vogliono che io faccia riascoltare le storie che loro hanno registrato in MP3 davanti ai compagni, si vergognano veramente molto, magari non si vergognano di altre cose che pubblicano su Instagram e di cui invece dovrebbero vergognarsi. E quindi è anche un modo di imparare ad accettarsi, a sapersi ascoltare e poi a padroneggiare la propria voce. Davvero le prime volte molti di loro non sanno recitare, quindi per carità niente di male, ovvio, però insomma la voce è uno strumento così importante per noi che è alla base di tutta la nostra interazione con gli altri, quindi imparare come si intona la propria voce, il ritmo con cui si parla, eccetera, insomma tutti gli elementi linguistici e non solo, ma anche quelli paralinguistici che ovviamente nel digitale scompaiono, è estremamente importante, questo è un modo. Bene, poi si pensi alle risorse didattiche che potremmo offrire agli studenti, potremmo registrare le nostre lezioni, come vi ho già detto, non vi faccio rivedere l'archivio di lezioni audio che ho registrato, naturalmente non è semplice neanche questo, anche qui ho dovuto vincere nel mio imbarazzo, ho dovuto pregare gli alunni di fare abbastanza silenzio, altrimenti la registrazione non viene bene, ho dovuto mettere un cartello vietato entrare, altrimenti i bidelli entrano con i bidelli, e le chiedo scusa se si dice in un altro modo io purtroppo sono vecchio, entrano continuamente con le circolari, insomma, però ecco, magari al primo tentativo non va bene perché non esce bene la lezione o per tanti altri motivi, ma al secondo al terzo tentativo si ha una lezione audio, un mp3 che si può inserire, pubblicare in uno spazio condiviso che gli alunni hanno, a cui gli alunni hanno un accesso diretto e immediato anche dal loro smartphone, ma si pensi agli audio appunti, possiamo insegnare ai ragazzi a prendere degli appunti audio, oppure possono mentre studiano riassumere con l'audio, registrando cioè la loro voce, oppure possiamo registrare quanto avviene in aula, prima in aula dobbiamo tenere una discussione, la registriamo, o una verifica, la registriamo, oppure possiamo usare l'audio digitale per inviare messaggi agli studenti, prima oltre tramite il modo, oppure alle famiglie, oppure ai colleghi, in occasione di determinate incombenze o scadenze, si può usare, qui ho scritto una cosa molto importante che viene sacrificata, perché io per esempio ho due ore di insegnamento di storia alla settimana e tre di filosofia, ecco, per la correzione, a cui dedichiamo a volte poco tempo, anche se è molto importante, ecco, si può usare l'audio per inviare degli audio messaggi appunto agli studenti e dare loro un certo feedback, eccetera, e così via. Abbiamo detto la radiocronaca, anche qui pensiamo a un evento, ci possono essere tanti eventi che riguardano la scuola, la vita extrascolastica, un evento può essere una sagra paesana, oppure può essere una manifestazione artistica, un evento culturale, un evento intero alla scuola, per esempio un evento sportivo, o anche l'assemblea degli studenti, ecco, possiamo insegnare ai ragazzi a fare la radiocronaca di questo evento, tu sei testimone e lasci la tua testimonianza descrivendo quello che avviene, anche questo può dare, può consentire di sviluppare negli studenti, adesso questo lo sto trascurando, questo aspetto, ma delle capacità, delle abilità considerevoli dal punto di vista comunicativo, oppure pensate a esperienze come possono essere delle uscite didattiche, la visita a un museo, la visita a una mostra, qui da noi c'è il festival della scienza, poi c'è tutto libri, un altro festival, ecco, in genere si portano le classi, oppure se le si porta a teatro, le si porta al cinema, chiedere le impressioni, le aspettative prima dello spettacolo e dopo lo spettacolo e poi discuterne in classe, oppure attività formative che si svolgono normalmente, per esempio, i ragazzi stanno lavorando in gruppo e ogni gruppo, uno di loro, deve descrivere verbalmente, registrando con lo smartphone, quello che stanno facendo, come si sono organizzati, cosa hanno deciso, una sorta di diario, di audio diario, oppure dare l'incarico a qualcuno di registrare quello che avviene durante un'esperienza laboratoriale, oppure di fare la radiocronaca di quell'esperienza, per non parlare dei viaggi di istruzione, eccetera. E poi la recitazione, come dicevo prima, l'uso della voce, ecco, recitare una poesia, oppure un racconto, e quindi creare un piccolo audiolibro in un certo senso, oppure cantare, oppure, pensate che carino, un radiodramma, prima glielo si fa scrivere, magari come opera derivata da un racconto che hanno letto, o da un'opera letteraria, o potrebbe essere una parodia o una autobiografia, insomma, per esempio, il radiodrama consentirebbe, anche dal punto di vista della scrittura creativa, sbaglio sempre a guardare la webcam, e qui, consentirebbe tante possibilità, oppure, dicevo, l'autopseudobiografia, e quindi raccontare delle proprie esperienze biografiche, o presentarsi ai compagni con una piccola registrazione in 30 secondi, presentati ai tuoi compagni, presentati alla tua classe, aiuta anche, come dire, a riflettere su di sé, sulle proprie aspettative, si potrebbe preparare una griglia, e quindi ti devi presentare, dicendo cosa ti aspetti dalla scuola, cosa ti va, cosa non ti va, ovviamente, senza esagerare, perché poi, certe cose, insomma, devono rimanere inespresse, non è che io posso dire che non mi piace il professor Marini nel mio racconto autobiografico registrato sulla scuola, ecco, però, insomma, fornire loro una piccola griglia in modo che possano regolarsi, poi hanno un minuto di tempo, 45 secondi, per parlare, e poi possiamo concludere col giornalismo, per esempio, un reportage o un'inchiesta, adesso, oggi il 4 novembre, quindi prima guerra mondiale, 100 anni dalla fine, potremmo aver preparato qualche domanda da fare alle persone che conosciamo in mezzo alla strada, facendogli un po' stile le iene delle domande quando è finita la prima guerra mondiale, chi l'ha vinta, contro chi combattevamo, e vedere cosa ne sa ancora la gente di queste cose, un radio talk, se riesco a trovarlo poi vi faccio vedere un esempio di un radio talk fatto da bambini della scuola elementare, guidati ovviamente dalla loro maestra, un giornale radio, che può essere anche un finto giornale radio, la telecronaca dell'eruzione del Vesuvio, l'eruzione di Pompei, la telecronaca, scusate, la radiocronaca ovviamente, oppure, che so, del diluvio universale con l'intervista a Noè, oppure audiopresentazioni, potrei dire, ragazzi, ecco, avete letto un libro, o avete fatto un'esperienza in laboratorio, raccontatela, oppure presentatela, recensite il libro, recensite il film, recensite la vostra squadra del cuore, insomma, qualunque cosa, possa destare un certo interesse e possa, in qualche modo, essere catturata sul piano didattico, cioè, promuovere abilità, competenze, capacità che ci interessano, conoscenze che ci interessano, oppure, cercare i testimoni di qualcosa, anche nella, all'interno della, della comunità, entro cui si colloca la nostra scuola, è accaduto qualcosa di grave, o di bello, oppure, nella comunità locale, c'è, che so, uno sportivo, che ha conseguito un particolare successo, uno scrittore, ecco, andare, e chiedergli la possibilità, di fargli qualche domanda, o di, o di, darci la sua testa, insomma, si possono fare tantissime cose, eh, bene, eh, continuo, a dare uno sguardo, alla chat, ecco, qui abbiamo degli esempi, io vi darò poi il link, lo metterò nel box descrittivo del video, eh, che troverete su YouTube, queste sono lezioni che vi ho fatto sentire, sono delle mie lezioni, quindi è inutile che ve le faccia risentire, eh, ma appunto, pensate al vantaggio, un alunno non è potuto venire a scuola, oppure, aveva la testa da un'altra parte, mentre era in aula, oppure voleva fare delle domande, ma si è vergognato, riascolta, eh, la lezione, la riascolta può fermarsi, può tornare indietro, e se io condivido con lui la lezione, per esempio, su Edmodo, può farmi delle domande su Edmodo, e io posso rispondere, bontamia, audio appunti, e qui sono audio appunti, eh, realizzati dagli studenti stessi, questo è un riassunto relativo alla Prima Guerra Mondiale, che è ospitato su Google Drive, Prima Guerra Mondiale, vera e propria colossale tragedia, iniziò come guerra regionale, dove lei legge praticamente il riassunto che ha preparato, e lo usa poi per ripassare, non ricordo neanche che sia questa ragazza, queste sono valutazioni su attività svolte dai compagni, fatte con Clay Pitt, dove, ecco, veniva data una valutazione, a ciascuno di questi compagni, questo è Roberto, che valuta Marco Corrias, e tutti gli altri, Il compagno Marco Corrias è stato molto bravo, ecco, è stato molto bravo, ah no, scusate, ci sono altre cose, per esempio, verifiche audio, di questo vi avevo già parlato, non ve la faccio sentire, per rispetto della privacy, anche se sono ragazzi che saranno già laureati, forse adesso, spero per loro, in cui io l'interrogavo, è molto divertente, alcune verifiche audio, a seconda delle scempiaggini che si dicono, fanno poi ridere parecchio, e si possono quindi salvare, condividere con loro, anche privatamente, senza bisogno che lo condivida tutta la classe, in modo che lui si possa ascoltare, poi ci sono attività didattiche, questo è per esempio, è un Padlet, che raccoglie le attività della terza C, adesso devo aggiungere le altre attività che abbiamo fatto, ma le prime che abbiamo fatto sono, cerca che cos'è un mito, in un segno filosofia, cerca un mito delle origini, e poi con Clipit registralo, e quindi Clipit è molto semplice, gli ho fatto usare questo, perché appunto è il più semplice, all'inizio c'erano solo le acque del caos, ecco le acque del caos, questo è Andrea Almerighi, come vedete Clipit, ne approfitto per presentarvelo, è uno spazio in cui io posso pubblicare, i miei file mp3, quindi tutto quello che devo saper fare, è cliccare qui, upload, vedete, e poi caricare o dal mio computer, facendo l'upload, o registrare direttamente online, adesso non so cosa sia successo, mi ha bloccato tutto, quindi chiudo, ah scusate, mi sta dicendo, ecco, mi sta dicendo, poverino, ecco da dove vuoi beccare l'audio, quindi adesso dovrei andare a cercare l'audio, vedete, un audio qualsiasi mp3, e caricare, ecco Fiorella Mannoia, e potrei caricare Fiorella Mannoia, bene, poi, è carino, perché puoi anche inserire dei commenti, e quindi può nascere anche una piccola discussione, e quindi potremo, per esempio, ecco, abbiamo visto un film, abbiamo raccolto alcuni pareri all'uscita del film dei compagni, e adesso lasciamo ai ragazzi e alle ragazze, la possibilità di discutere su quello che ascoltano, nella registrazione di queste interviste. Questa è la pagina di Andrea Almerighi, e qui compariranno i suoi vari, non so perché non si vede, ah no, perché questo è il mio profilo, un attimo, ecco qua, vedete, questo è il mio profilo, compariranno così le varie trasmissioni che ho inserito su Clipit, e quindi in un unico spazio posso metterle tutte, chiudo, vedete, qui sono tutti gli altri miti, i ragazzi, ecco, questi sono sempre i miti delle origini, mi chiedo scusa, ecco, lettere dei condannati a morte, questo è l'Inuit, è una bacheca dei ragazzi di Quinta C, che hanno cercato delle lettere dei condannati a morte, io dico, non mi importa chi fossero contro chi combattessero, eccetera, devono essere dei condannati a morte, che scrivevano le loro ultime riflessioni, rivolti alle persone che amavano, e qui abbiamo, sempre con Clipit, mi pare, sono stati molto bravi, perché questi ragazzi di Quinta hanno saputo anche recitare, abbiamo la lettura recitata della lettera, e anche gli permette di entrare in una dimensione, in un rapporto più emotivo, più coinvolgente con gli eventi storici. Ancora, se andiamo avanti, ecco, questa, no, dunque altro non c'è qui da mostrarvi, ecco, questa invece è un'evoluzione, per così dire, questa è una lezione che ho registrato su Cartesio, poi ho usato Movie Maker, ho insegnato anche ai ragazzi a usarlo, perché è basico, è semplicissimo, certo iMovie è più bello, ma su Windows Movie Maker, che è gratuito, va benissimo, per apprendere quelle che sono le basi della grammatica, cinematografica, del linguaggio cinematografico, quindi usando uno smartphone, registro la lezione, usando Movie Maker, inserisco, come vedete qui, un titolo, una sigla, un motivetto iniziale, e delle immagini, e poi pubblico su YouTube, adesso vi faccio vedere il risultato, è abbastanza carino, vedete, Cartesio, mi ricordate, così vi ho detto, fatemi abbassare il volume, cartesio, questo è il risultato, e qui c'è il motivetto, inizia, ci sono i titoli, e qui c'è la lezione, a cui io associo, vedete, questa mappa che avevo fatto, sulla filosofia di Cartesio, la durata della mappa, copre la durata, della mia spiegazione, di questi argomenti, in modo che io possa seguire l'audio, e vedere anche nella mappa, i concetti di cui parlo, ci vuole un po' di tempo, per tradurla in questo modo, l'audio lezione, per cui è più semplice, pubblicarla, come fa il mp3, buonanotte, però, se si è il tempo e la voglia, questo è un modo forse più efficace, di trasformare l'audio lezione, in qualcosa di più, bene, cerca di giustificare, scusa, ecco, questi sono, Clipit e Podomatic, vi mostro adesso, Podomatic, sempre, domande non ne avete, c'è ancora qualcuno di voi che segue, vediamo, sì, sì, c'è ancora qualcuno che segue, grazie, ecco, questo è Podomatic, un tempo si poteva, anche, personalizzare maggiormente, avete, se non sbaglio, 500 megabit di spazio, che non sono moltissimi, però, insomma, sono più che sufficienti, per quelle che sono le esigenze didattiche, o comunque per testare il programma, adesso vi faccio vedere il risultato, ecco, un tempo si poteva anche, adesso vi faccio vedere il podcast, quella che è la cosiddetta web radio, in realtà non è una vera e propria web radio questa, ma è semplicemente uno spazio sul web, in cui io pubblico gli episodi dei miei programmi, come vedete, si presenta in questo modo, un tempo, dicevo, era anche possibile personalizzarlo, adesso non è più possibile con la versione a pagamento, ma, questo è più che sufficiente, ecco, adesso andiamo, questo è il mio figlio che recita, Pianto Antico, sono Marco Marini, e vi reciterò, ecco, adesso provo ad aprire, non so perché non si sia aperto, perché devo andare, ecco qui, questa è la pagina di Pianto Antico, questa è la descrizione di quanto avviene, anche qui abbiamo la possibilità di dare dei commenti, poi guardate, è molto carino perché posso scaricare, posso condividere sui social, posso anche inserire in una playlist, gli episodi che ho pubblicato, o episodi che trovo presso altri podcaster, e posso ovviamente ascoltare, si poteva anche votare, ma adesso non vedo dove si faccia questa operazione, pazienza, ecco, come vedete, ecco, aggiungo la playlist, scarica l'episodio, ecco, qui si può, si può votare, bene, quindi come vedete, potrebbe anche essere utile, perché, forse, meglio ancora di Clipit, ci offre un piccolo ambiente, però qualche strumento di interazione, come il commento, il voto, la condivisione, eccetera, ma insomma, Clipit, Podomatico, Spreaker, più o meno, più o meno sono equivalenti, siamo già oltre i 30 minuti che avevo promesso, quindi cerco di procedere un po' più velocemente, questi sono, vedete, lavori con Spreaker e Podomatic, che abbiamo sviluppato con dei colleghi, di un corso sullo storytelling qualche anno fa, questo è molto carino, Radio Yogi, per esempio, vedete, qui erano Yogi e Fabio che intervistano, eccetera, eccetera, erano leggende, storie, gite, sono stati molto bravi, devo dire, sia i ragazzi che la maestra, quindi vedete, hanno messo su un bel po' di episodi, adesso non vi faccio ascoltare, ma questo era pensato proprio come un programma, oppure la storia di Capuccetto Rosso, oppure, questa era invece la storia della Grande Guerra, era una serie di episodi, tratti dal diario di un soldato, o di un militare, friulano, del luogo, quindi, e che i ragazzi recitavano, e ci sono tante altre cose, insomma, la Bibbia, questo è un telegiornale ambientato, dai tempi biblici, se non ricordo, gentili radioascoltatori, dai vostri due DJ, DJ Mesaglio e DJ Pacu, oggi è l'estita, il tempo è... questo è un bambino elementare, penso sia una quarta elementare, e così via, ce n'è un altro molto bellino, ma chissà se lo beccano, lo beccherò mai, che invece sono bambini della prima elementare, che si dicono una cosa bella l'uno all'altro, sono di fronte l'uno all'altro, e ognuno dice all'altro, fa l'altro un complimento, l'idea era di a chi ti sta di fronte l'emozione, un'emozione positiva che ti provoca, educazione emotiva, che adesso, insomma, è molto di moda. Ancora, qui trovate il podcast di cui vi ho parlato anche durante l'altro webinar, vedete, abbiamo messo su 27 idee per usare l'audio nella didattica, cosa ti è capitato? Registra la cosa più bella e più brutta che ti sono capitate, narrazione autobiografica, oppure un giorno a scuola, racconta la tua scuola utilizzando solo i suoni che si sentono nel corso di un'ormale giornata, e questo è un po' il panorama audio, è una cosa molto di moda, adesso andare in gita e fare non solo le foto, ma il panorama sonoro, quindi io registro i suoni del posto in cui mi trovo, un ruscello che scorre, la metropolitana dell'underground di Londra, la metropolitana di Londra, il suono del Big Bang, e quindi alla fine ho un ritratto audio, per così dire, del mio viaggio, ecco, io gli ho proposto di raccontare una giornata di scuola soltanto con i suoni che si sentono, la campanella, il chiasso della ricreazione, eccetera, eccetera, e così via, ci sono tante altre possibilità, l'ho perso, per esempio, si chiede ai ragazzi di leggere una frase di un racconto di una poesia spiegando che emozioni queste parole suscitino, racconta la storia del tuo animale, ogni alunno, all'unno racconta la storia del proccane, gatto o qualunque altro animale abbia in casa, eccetera, eccetera, audio di latte, come si fa per, ogni alunno spiega una procedura tecnica recreativa a un problema disciplinare, come si esegue un'operazione, come si disegna una certa forma, come si realizza un determinato esperimento, insomma, le idee sono tantissime, il mondo finirà nei prossimi dieci minuti, cosa farai? Va bene, qui potete trovare, insomma, qualche ispirazione, dove diavolo sono, e per ultimo vi lascio questo link a un'altra mappa Mindomo grande, grossa, enorme, dedicata proprio all'uso dell'audio e del video nella didattica, al di là anche dello storytelling, e qui trovate, vedete, due rami principali, non solo audio, e qui appunto esempi, appunti, verifiche, molti esempi vi ho fatti vedere, cos'è il podcast, Podomatic, Spreaker, insomma, se volete potete esplorare quando avrete tempo anche questa mappa, penso di aver finito con la presentazione, beh, niente, ecco, in conclusione questa bella immagine di questo scriba greco, insomma, la voce digitale, quindi può essere un punto di partenza eccellente per integrare le tecnologie nella didattica, perché è semplice, perché è proprio primitiva nel senso di originaria, la voce è molto versatile, cioè possiamo adattare in effetti l'audio digitale a quasi tutte le esigenze o le situazioni in cui ci veniamo a trovare in ambito didattico e questo vuol dire che è congeniale a un approccio situazionale. Bene, qui vi ho rimesso il link, vedo, del podcast che, del Padlet che raccoglie tutte le idee per la didattica, ecco, questa voleva essere, insomma, io parlo di podcast, voi sapete che podcast arriva da iPod, che era quel dispositivo con cui si ascoltava musica, anche scaricandola da internet, e broadcast, che indicava la trasmissione tradizionale, gerarchica, come dicevamo prima, e unidirezionale, da un unico centro emittente ai tanti destinatari. In realtà, quelli che ho fatto vedere non sono dei veri e propri podcast, sono semplicemente degli spazi, neanche delle web radio in senso stretto, degli spazi in cui io pubblico i miei file mp3. Se volete approfondire alcune delle cose che io ho detto qui, le dico meglio qui, ecco, in questa guida al podcast, in cui ho usato le stesse diapositive, non proprio le stesse, ma insomma, quasi le stesse diapositive, dura 36 minuti, però io qui parlo proprio dell'aspetto teorico, storico, e così via, meglio che posso, e grazie a quello che ho imparato leggendo, quello che scrivono i colleghi e dalle esperienze dei colleghi. Adesso guardo un attimo se ci sono domande o altro, perché io siamo andati un po' oltre i 30 minuti, avrei concluso, e quindi ecco, mi rendo conto che l'attività, i tempi sono ristretti, e mettere su un'attività decente e interessante con l'audio digitale potrebbe richiedere tempo, però non vi chiedo di fare un progetto grandioso, io sono per la politica dei piccoli passi, basta anche semplicemente una piccola idea che non prenda troppo tempo per realizzare con la classe una qualche registrazione di qualche cosa e sperimentare per rendersi conto, sperimentare questa tecnologia per rendersi conto della sua utilità, delle sue potenzialità, del fatto che può essere congeniale o meno la situazione didattica in cui ci troviamo e così via, quindi una piccola cosa senza cercare di seguire quello che si chiama l'effetto wow, insomma, non siamo non siamo dei pubblicitari siamo secondo me molto di più e ci accontentiamo di molto di meno, non ci accontentiamo di suscitare stupore e meraviglia anche se lo stupore e la meraviglia sono l'origine della filosofia di Rebbe Aristotele ma di fare qualcosa che possa tornare utile alle ragazze e ai ragazzi e a noi stessi e quindi anche una piccola cosa che non abbia molte pretese ma che sia un primo passo e poi anche il viaggio è più lungo come diceva qualcuno di cui non ricordo il nome comincia con un passo solo bene io vi ringrazio per avermi seguito anche di domenica vi saluto mi ha fatto piacere vedervi anzi leggervi ci sentiamo martedì con i fumetti questa volta visto che a Lucca è in corso sta finendo mi pare Luca Comics bene ancora grazie arrivederci a presto